Eravamo le corriere che erano stipate proprio al massimo, quelli che lavoravano nei reparti più vicini all'uscita erano i fortunati che riuscivano a sedearsi all'andata, all'uscita e quelli che arrivavano nelle reparti un po' più esterni, più lontani, in piedi, almeno fino a Cairo perché io poi abitavo un po' fuori Cairo, quindi arrivando a Cairo, forse anche un po' prima avevo la fortuna di sedermi perché poi mi mettevo sempre vicino a quelli che sapevo che erano i primi a scendere quindi diciamo ne approfittavo per poi potermi sedere. Ai cambi turni c'erano 7-8 pulma come minimo, poi senza contare quelli che arrivavano in treno che facevano la spola dalla portineria fino alla stazione che era più o meno 800 metri insomma c'era una processione, specialmente al mattino in modo particolare, al mattino nell'orario normale arrivavano i treni verso le 7 e mezza perché poi arrivavano più o meno in contemporanea sia quello di Savona che quello che arrivava dal Piemonte, Basso Piemonte, da Ceva oppure da Acqui arrivavano più o meno, quindi quando scendevano era proprio una processione. Lavorare in un ambiente a luce naturale o con i neon insomma secondo gli orari, andare a lavorare al buio è la cosa che ho sentito un po' pesante perché quando si entrava non si vedeva un accidente e il brutto era quando si usciva perché bisognava uscire, diciamo, possibilmente gradatamente avvicinarsi alla luce sempre più forte e quindi di conseguenza mi è calata anche un po' la vista. In questi reparti di confezionamento, sia del fotografico che poi anche radio, tante mansioni venivano svolte dalle donne, se si lasciava un po' prendere la mano le donne diciamo hanno un po' la cosa più di arrufianarsi un pochettino, io invece diciamo parlo della mia persona, io ho sempre trattato tutti allo stesso modo, anzi quelli che si comportavano bene, sia maschi che donne, non ho mai fatto distensione da uno all'altro. Per come l'ho vissuta io, la questione in mezzo è nata così, che l'A3M aveva copiato dei brevetti alla Kodak, aveva copiato dei brevetti alla Kodak, in America non scherzano, l'A3M era stata condannata a disarcire questi danni, quindi l'A3M ha pensato bene di cedere, di pagare il danno alla Kodak con Ferragna, perché Ferragna tanto ormai all'America non gli interessava più niente l'A3M, perché tutto quello che aveva potuto si era fatto in stabilimenti in America, avevamo un capo diretto che era andato in America e aveva avuto l'ordine di chiudere Ferragna, questo signore è ritornato e ha detto no, io Ferragna non la chiude, ha dato la sua dimissione e se n'è andato. E poco dopo poi siamo passati a Inesho, perché poi Inesho c'era chi ci faceva un po' la battuta, Inesho, in dialetto, insomma. E anche lì ha fatto un festeggiamento abbastanza pomposo, ci ha mandato la cassetta a casa, la bottiglia, insomma. Però si sapeva già che era destinata, la Ferragna era destinata a chiudere, anche perché con l'evento digitale non c'erano più stati i finanziamenti per evolversi sul digitale o su altri prodotti. Cioè l'A3M ormai Ferragna, da come l'ho vissuta io, da capoturno, che quindi avevo la possibilità di sentire in alcune riunioni certi discorsi, lasciava appesagire che Ferragna... Infatti io a mio figlio, mio figlio del 77, quando studiava e dicevo, guarda, studia. Io purtroppo mi sono dovuta arrangiare con le serali, ho detto io ti do la possibilità di studiare, però non sperare in un posto di lavoro a Ferragna, perché quando tu avrai finito gli studi Ferragna non esisterà più. Prima! Grazie! Grazie!